Jesus Christ, You are my God, Alleluia, Alleluia Jesus Christ, You are my God, You are my God, Alleluia Bambini e ragazzi, il giorno tanto atteso è arrivato. Oggi è Pasqua, che la luce di Gesù risorto entri nelle vostre case e doni a tutti pace e tanta serenità. Vi faccio queste auguri anche a nome dei preti, delle suore, ma certamente vogliamo farvi gli auguri in presenza guardandovi negli occhi durante le messe che oggi verranno celebrate in tutta la nostra comunità. Ascoltate adesso il messaggio dei nostri animatori. Ciao! Domani è Pasqua, ricordiamo la risurrezione di Gesù e il suo ritorno al Padre. Gesù è risorto. Passato il sabato, alcune donne che seguivano Gesù si recavano al sepolcro, alle varie del sole. Dicono tra loro, chi si rotolera via il masso dall'ingresso nel sepolcro? Alzati gli occhi, vedono che il masso è già rotolato via. Eppure era molto grande. Entrate nel sepolcro, vedono seduto sulla destra un giovane, vestito di una veste bianca e hanno paura. Ma egli dice loro, non abbiate paura. Voi cercate Gesù di Nazareth, il crocifisso. È risorto, non è qui. Vi ricordo per la giornata di domani di pregare insieme alla vostra famiglia prima dei pasti. E vi ricordo anche di telefonare ai nonni per augurargli anche a loro una buona Pasqua. E infine vi aspettiamo per l'intera giornata di domani alle messe pasquali. Da parte nostra e da tutto l'oratorio, vi auguriamo buona Pasqua! I Cieli Pensilano del Cante di Dio d'Agloria